I urani dichiarano lo stato di guerra. Lì c'è voluto così tanto per diventare come ora, già. E non è mica finito, sa. Continua anche quando si sta seduti là a guardarlo. Sta succedendo anche ora che siamo seduti qui, in questa brutta città. Sì. Tutti 3.000 soldati valicano il sangue ottardo. A nulla servono le superviveni dei ventinesi che li vanno incontro chiedendo perdono. Le milizie compiono rastrezamenti, arrestano molte persone, tra cui tre uomini, accusati di essere i capi della rivolta. L'alfiere Forni di Bedretto, il capitano Orsi di Chigionia e il procuratore Sartori di Dato. Grazie per la visione.